Sono molto riconoscente per i fratelli che sono stati con me durante il viaggio nelle vostre città e nel vostro paese. Abbiamo un certo numero di domande alle quali rispondere. Il nostro caro fratello ve le leggerà. La prima domanda, nella nostra epoca di l'Odicea la salvezza è legata alla fede nel messaggio che è stato portato dal fratello Branham? In altri termini, senza la fede in questo messaggio nessuno può avere la vita eterna? E' questa la verità? Possiamo trovare o esistono delle persone salvate, cioè delle persone nate di nuovo nelle denominazioni? Seconda domanda, qual è la differenza tra il sangue di Cristo e il messaggio biblico del tempo della fine? Il sangue è lo Spirito Santo o è la parola? Il sangue di Cristo si è già asciugato sul trono della grazia? Terza domanda, il ministero dell'angelo di Apocalisse 14.6 Durante l'esercizio di questo ministero, le tribù di Israele sono interessate da quest'ultimo? Egli è lo stesso di Apocalisse 10, verso 7? Qualcuno può nascere di nuovo in una denominazione? Voglio che comprendiate questo Che un vero figlio di Dio crederà soltanto ciò che dice la scrittura Noi mettiamo tutte le cose nel posto giusto tramite la grazia di Dio Quando Gesù Cristo ha sparso il suo sangue sulla croce del Calvario Nessuno aveva sentito parlare in quel tempo in merito al messaggio dell'ora In Matteo capitolo 26, verso 28 Il nostro Signore ha detto Parlando del suo sangue che egli avrebbe sparso per la remissione dei peccati Questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto Noi siamo stati riscattati tramite il sangue di Gesù Cristo, il figlio di Dio Ma noi viviamo di ogni parola di Dio Noi crediamo ogni parola di Dio Adesso noi viviamo molto molto vicini al ritorno di Cristo E come l'Apostolo Paolo ha scritto ai Corinzi In primo Corinzi capitolo 2, verso 14 Or l'Uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio Perché sono follia per Lui E non le può conoscere Poiché si giudicano spiritualmente Noi dobbiamo mettere tutte le cose al posto giusto Abbiamo bisogno dell'intendimento divino E della rivelazione per mezzo dello Spirito Santo Giusto come tutti i profeti e tutti gli apostoli Erano sotto l'unzione dello Spirito Santo Noi dobbiamo essere sotto la stessa unzione dello Spirito Santo Per vedere ciò che essi hanno veduto Per comprendere come loro hanno compreso Se guardiamo al primo inizio della Chiesa Neotestamentaria Ogni cosa è stata fatta sotto la guida dello Spirito Santo Giovanni Battista ha predicato Io vi battezzo in acqua Ma colui che viene dietro di me Vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco Il giorno di Pentecoste Il fuoco di Dio discese E tutti i credenti ricevettero delle lingue di fuoco Secondo Atti Capitolo 2 E poi furono riempiti con lo Spirito Santo Questo è ciò di cui abbiamo bisogno oggi La nostra lingua deve essere messa al servizio del Dio Onnipotente Ci sono così tanti predicatori Che non hanno ricevuto una nuova lingua E non sono condotti dallo Spirito Santo E come ha scritto l'Apostolo Paolo L'uomo naturale non comprende le cose dello Spirito Santo Se vogliamo mettere tutte le cose a posto Tutto il piano di redenzione Giustificazione, santificazione e il battesimo dello Spirito Santo Come è stato nel principio Quando il corpo di Gesù Cristo era un organismo vivente Quando tutti i credenti erano di un solo cuore e di una sola anima C'era una sola Chiesa in ogni città Non c'era alcuna falsa dottrina Né alcuna divisione Loro erano di un solo cuore e di una sola anima Era il cielo sulla terra E quel tempo ritorna adesso La stessa cosa che è accaduta all'inizio Ha luogo adesso Prima del ritorno di Cristo Ma affinché comprendiate questo Dobbiamo tornare indietro di qualche passo nella storia Nei primi 300 anni dopo Cristo Non c'erano chiese nell'impero romano C'erano circa 128 differenti direzioni nel cristianesimo E nel 310 Quando terminò la grande persecuzione sotto Diocleziano Allora la madre di Costantino Fece un viaggio a Gerusalemme E quando lei ritornò da Gerusalemme Costantino cambiò totalmente Ed egli accettò il cristianesimo come religione di Stato E poi egli radunò tutte le differenti direzioni Per il concilio di Nicea Quello è stato l'inizio della Chiesa di Stato Nell'impero romano E soltanto nel 441 La storia è venuta a conoscenza di uno eletto come Papa E allora iniziarono i mille anni di epoche oscure Allora ebbero luogo le sette crociate Ognuno doveva credere ciò che diceva il Papa Oppure la sua vita era in pericolo Furono i mille anni più terribili della storia dell'umanità Nelle sette crociate 22 milioni di persone furono uccise Ma poi accadde qualcosa di molto speciale Ebbe inizio il tempo della riforma Ci fu un Jan Hus in Cieco Slovacchia Un John Wycliffe in Inghilterra Un Martin Lutero in Germania Zwingli in Svizzera Fino al tempo della riforma Nessuna famiglia aveva la Bibbia La Bibbia esisteva soltanto in due lingue In greco e in latino Nessun'altra lingua aveva la Bibbia Ma dai giorni della riforma La Bibbia è stata tradotta in più di duemila lingue Adesso ognuno ha la Bibbia a casa Così sin dal tempo della riforma Dio ha dato un risveglio dopo l'altro Sempre più vicini alla Bibbia Circa cento anni fa C'è stato il risveglio pentecostale Lo Spirito Santo è caduto su tutti i continenti E i cuori del popolo di Dio furono preparati Dopo la seconda guerra mondiale E' accaduto qualcosa di speciale Quando il nostro Dio ha inviato William Branham Il suo servitore Già nel giugno 1933 Egli ricevette l'incarico divino Come Giovanni Battista è stato inviato Quale precursore della prima venuta di Cristo Tu sei inviato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo Noi viviamo adesso Non è sufficiente conoscere ciò che è accaduto nel corso di duemila anni O negli ultimi 500 anni Noi dobbiamo conoscere la parola promessa di Dio per oggi Quando si tratta del perdono dei peccati Voi dovete credere in Gesù Cristo Come vostro personale Salvatore Perché il Signore ha sparso il suo sangue per noi Il sangue del nuovo patto Ma se siete un vero figlio di Dio Nato di nuovo per mezzo dello Spirito Santo Voi riconoscerete la parola promessa per oggi Riconoscerete Apocalisse capitoli 2 e 3 Dove lo Spirito Santo dice sempre la stessa cosa Alla fine di ogni messaggio Chi ha orecchi Ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese Così noi siamo redenti tramite il sangue dell'agnello E secondo Apocalisse capitolo 12 Leggeremo il verso 11 Ma essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello E per mezzo della parola della loro testimonianza Il sangue rimane sul seggio di grazia Secondo Ebrei capitolo 9 Noi leggeremo dal verso 11 Fino al verso 15 Alziamoci in piedi Mentre leggiamo questo meraviglioso passo della scrittura Ascoltate attentamente Per favore Ascoltate attentamente Ma Cristo essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri Attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto Non fatto da mano d'uomo Cioè non di questa creazione Entrò una volta per sempre nel santuario Non con sangue di capri e di vitelli Ma col proprio sangue Avendo acquistato una redenzione eterna Infatti se il sangue dei tori e dei capri E la cenere di una giovenca Aspersi sopra i contaminati li santifica Purificandoli nella carne Quanto più il sangue di Cristo Che mediante lo spirito eterno Offerse se stesso puro di ogni colpa Dio Purificherà la vostra coscienza Dalle opere morte Per servire il Dio vivente E perciò egli è il mediatore del nuovo patto Affinché Essendo intervenuta la morte per il riscatto Dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto I chiamati ricevano la promessa dell'eterna eredità Dite amén Amén Questa è la parola di Dio Prima epistola di Giovanni capitolo 5 Versi 11 e 12 E la testimonianza è questa Dio ci ha dato la vita eterna E questa vita è nel suo figlio Chi ha il figlio ha la vita Amén Chi non ha il figlio di Dio Non ha la vita Dite amén Avete ricevuto Gesù Cristo Il figlio di Dio Come vostro personale salvatore Allora voi avete vita eterna E vivrete eternamente Potete sedervi Ma è anche molto importante sapere Che molti sono i chiamati Ma pochi sono gli eletti E' anche buono sapere che Ci saranno vergini stolte E vergini avvedute E' anche buono sapere che Ci sarà la prima E la seconda Resurrezione E la sacra Scrittura dice In Apocalisse Capitolo 20 Beati coloro che hanno parte Alla prima Resurrezione Quanti di voi Desiderano essere Nella prima Resurrezione Il nostro Signore Ha detto Le mie pecore Conoscono La mia Voce Loro Conoscono me E io Conosco loro Noi dobbiamo conoscere Il Signore Personalmente Dobbiamo avere La nostra Personale Esperienza Di salvezza Così Dalla parola Promessa di Dio Per il nostro Tempo Noi comprendiamo Che ci deve essere Una totale Restaurazione Prima Del ritorno Di Cristo Io vi ho già detto Che Sin dal tempo Della Riforma Molte Dottrine Bibbliche Sono state Predicate La giustificazione Per fede Ma anche lì Dobbiamo andare Nelle sacre Scritture E non dire Soltanto La giustificazione Per fede Ma cosa dice La scrittura Romani Capitolo 5 Verso 9 Molto più Dunque Essendo Ora Giustificati Nel suo Sangue Saremo Salvati Dall'ira Per mezzo Di lui Non soltanto Una fede In generale Ma giustificati Per fede Tramite Il sangue Versato Noi siamo Il popolo Di Dio Del nuovo Patto Noi Non Ritorniamo A Nicea Noi Ritorniamo A Gerusalemme Perché La Sacra Scrittura Dice In Isaia Capitolo 2 E In Michea Capitolo 4 La Parola Di Dio Uscirà Da Gerusalemme E L'insegnamento Dal Monte Sion Non Da Roma Ma Da Gerusalemme Da Gerusalemme E L'insegnamento Che è Uscito Dalla Gerusalemme Terrestre Viene Creduto Da Tutti Coloro Che Saranno Nella Nuova Gerusalemme Alleluia Non so Se Voi Comprendete Questo È Il Tempo Di Dio Per Il Popolo Di Dio Chi Vuole Rimanere Nelle Denominazioni Che Sia La Sua Decisione Personale Attualmente Abbiamo 350 Denominazioni Cristiane E Sono Unite Nel Concilio Mondiale Delle Chiese Ma Abbiamo Una Sola Chiesa Di Gesù Cristo E L'ultima Chiamata Va Ad Ognuno In Tutte Le Chiese E Denominazioni E Coloro Che Ascoltano Ciò Che Dice Lo Spirito Ritornano Alla Parola Di Dio Noi Non Attacchiamo Alcuna Chiesa Ogni Chiesa Ha Il Diritto Di Esistere Ma Noi Non Rappresentiamo Una Certa Chiesa Noi Rappresentiamo Gesù Cristo E' la Parola E' la parola Di Dio Noi Rappresentiamo Le promesse Di Dio Noi viviamo Nella parola Promessa Per questo Giorno Voglio 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 che Comprendiate Questo E' Per favore Che Tutti Nelle Differenti Chiese Possiamo Comprendere In Modo Corretto Noi Non Possiamo Ritornare Alla Storia Della Chiesa Non Alle Cose Che Sono State Decise Nel Corso Dei 1600 Anni Passati Nei Primi 400 Anni Non C'era Alcun Dogma Nulla Di Ciò Che Abbiamo Nella Chiesa Oggi Nulla Di Tutto Ciò Esisteva Nei Primi 400 Anni E Come Cerco Di Dire Sin Dal Tempo Della Riforma E Nel 2017 Saranno 500 Anni Da Quando Fu Aperta Una Breccia Tramite La Riforma Martín Lutero Disse Sola Scrittura Solo La Scrittura Soltanto La Parola Di Dio Perché Cieli E Terra Passeranno Ma La Parola Di Dio Dimora In Eterno E Questa Parola Deve Essere In Noi Affin Affinché Rimaniamo Con La Parola Di Dio Dunque Il Signore Parla Adesso Al Suo Popolo Come Egli Egli Fatto La Prima Promessa In Genesi Capitolo 12 Parlando Ad Abramo In Te Io Benedirò Tutte Le Nazioni Della Terra In Galati Capitolo 3 Verso 14 Ci Viene Detto Che Dio Ha Benedetto Tutte Le Nazioni In Gesù Cristo Così Noi Comprendiamo Che Siamo Benedetti Con Tutte Le Benedizioni Di Dio Ora Veniamo Alla Parola Promessa Per Questo Giorno In Giovanni Capitolo 14 Il Nostro Signore Ha Fatto La Promessa Io Vado A Prepararvi Un Posto Poi Ritornerò E Vi Accoglierò Presso Di Me Affinché Dove Sono Io Siate Anche Voi Nella Seconda Epistola Di Pietro Capitolo 3 Ci viene Detto Ciò Che Sarebbe Accaduto Nel Tempo Della Fine E Chiederanno Dove La Promessa Del Suo Ritorno Leggi In 2 Pietro Capitolo 3 Verso 4 E Diranno Dove La Promessa Della Sua Venuta Da Quando Infatti I Padri Si Sono Addormentati Tutte Le Cose Continuano Come Dal Principio Della Creazione Dove La Promessa Del Suo Ritorno Duemila Anni Sono Passati Da Quando Il Nostro Signore Ha Fatto La Promessa In Germania Abbiamo Un Libro Un Incredulo Ha Scritto Questo Libro E Il Suo Pensiero Principale Perché Cristo Non Ritorna Ed Egli Cerca Di Mostrare Che Cristo Era Nell'errore Che Gli Apostoli Erano Nell'errore Io Dico Che Cristo Aveva Ragione E Gli Apostoli Avevano Ragione Ma Gli Schernitori Del Tempo Della Fine Sono Nell'errore Perché Dio Ha Un Tempo Nel Suo Piano Ogni Cosa Accade Al Tempo Giusto In Matteo Capitolo 24 Quando Il Nostro Signore Ha Parlato Del Tempo Della Fine Egli Ha Anche Parlato Del Popolo D'Israele Che Viene Radunato Nella Terra Promessa E Questo Dopo Che Il Nostro Signore Ha Detto Quando Vedrete Accadere Tutte Queste Cose Allora Sapete Che Il Tempo È Vicino È Alla Porta Potete Anche Leggerlo In Marco Capitolo 13 In Luca Capitolo 21 Quando Si Parla Di Tutti I Terremoti Di Tutte Le Guerre Di Tutte Le Catastrofi Che Verranno Ma Il Segno Principale Sarà Il Raduno Dei Figli Di Israele Da Più Di 140 Nazioni Le Dodici Tribù Ritornano Nella Terra Promessa E Dal 1948 Dopo Duemila Anni Abbiamo Di Nuovo Una Nazione Chiamata Israele E Il Nostro Signore Ha Detto Quando Questo Accadrà Quando I Vostri Occhi Vedranno Questo Allora Sapete Che Il Tempo È Vicino Così Noi Comprendiamo Secondo Atti Capitolo 15 Dal Verso 13 In Primo Luogo Dio Prende Un Popolo Di Mezzo Alle Nazioni E E Poi E E Ritornerà E Si Manifesterà Ad Israele E E Questo E E Anche Secondo Romani Capitolo 11 In In Primo Luogo Dio Termina L'Opera Con La Chiesa Gentile E Poi Egli Si Volge Ad Israele Alla Chiesa Egli Ha Promesso Un Profeta E Ad Israele Ha Promesso Due Profeti Zaccaria Capitolo 4 Apocalisse Capitolo 11 Tutto Ciò E Nella Sacra Scrittura Mie Cari Fratelli E Sorelle Questo E Il Libro Più Prezioso Sulla Faccia Della Terra Nella Sacra Scrittura Ci Viene Detto Tutto Ciò Che Si Adempirà Fino Al Momento In Cui Il Tempo Non Sarà Più Quando La Nuova Gerusalemme Discenderà E Ci Saranno Nuovi Cieli E Nuova Terra E Noi Saremo Nell' Eternità Per Sempre Così Comprendiamo Che Questo È Il Tempo Più Importante Per Conoscere Il Signore Quale Nostro Personale Salvatore Per Conoscere La Sua Parola Promessa Ed 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 Avere Parte In Ciò Che Dio Fa Proprio Ora In Malachia Capitolo 4 Abbiamo La Promessa Io Vi Mando Il Profeta Elia In Matteo Capitolo 17 Verso 11 Abbiamo La Conferma Tramite Gesù Cristo Stesso In Marco Capitolo 9 Verso 12 Il Nostro Signore Ha Evidenziato La Promessa Dell'Antico Testamento Che Un Profeta Come Elia Sarebbe Venuto Per Restaurare Tutte Le Cose Tutti Gli Insegnamenti Della Bibbia Tutte Le Pratiche Bibliche Ogni Cosa Deve Essere Restaurata Nella Condizione In Cui La Chiesa Era All'inizio E Se Andate Nel Libro Di Esdra E Nel Libro Di Nemia Quando Il Popolo È Ritornato Dalla Cattività Babilonese Loro Sono Ritornati A Gerusalemme Sono Andati Sul Monte Del Tempio E Hanno Hanno Trovato Il Fondamento Originale E Hanno Riedificato Il Tempio Sul Fondamento Originale Nella Stessa Nella stessa Maniera Noi Dobbiamo Ritornare A Gerusalemme L'Apostolo Paolo Disse Io Posto Il Fondamento Nessun Altro Fondamento Può Essere Posto Efesini Capitolo 2 Verso 20 La Chiesa Neotestamentaria E Edificata Sul Fondamento Degli Apostoli E Dei Profeti Noi Dobbiamo Ritornare Al Fondamento Originale Prima Epistola Di Timotio Capitolo 3 Verso 15 La Chiesa Neotestamentaria E Colonne Base Della Verità Indietro A Dio Indietro Alla Sua Parola Indietro All'inizio Indietro All'insegnamento Degli Apostoli Cosa Insegna La Bibbia Riguardo A Dio Tutta La Sacra Scrittura Parla Di Un Solo Dio Nessuna Volta In Merito A Tre Persone La Dichiarazione Che Il Padre E 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 Una Tale Dichiarazione Non Si Trova Nella Parola Di Dio Per favore Non Offendetevi Non so se potete Vedere qui da lontano Tutte le chiese Tutte le denominazioni Credono in tre persone eterne Ma la Bibbia dice più di 6.000 volte Che Dio è uno E E questo Unico Dio E' il Creatore Egli è il Re Egli è il Salvatore Egli è il Giudice Egli è tutto In tutti Ma per portare a compimento il suo piano di salvezza Egli si è manifestato in cielo come nostro padre Nel suo unigenito figlio sulla terra E Emanuele Dio Con noi E il figlio Poteva dire Chi ha visto me Ha visto il padre Io E il padre Siamo uno E' scritto nel Vangelo di Giovanni Così Miei cari amici Per favore Prendete ciò Seriamente Io Non posso fare Alcun compromesso Non posso piacere Alle vostre orecchie Se sono Un vero Servitore Di Dio Devo condividere con voi La vera parola Di Dio E soltanto Se voi credete La verità Sarete liberati Da ogni errore Se andate Nei 4.000 anni Dell'Antico Testamento Nessuna volta viene testimoniato Di una conversazione Di una conversazione Tra il padre E il figlio Neanche una sola volta Neanche una sola volta Ma i predicatori Ma i predicatori D'oggi Loro raccontano Delle storie E dicono che il padre E dicono che il padre Ha parlato Al figlio Vuoi essere così gentile E andare sulla terra Non con me Non con me Non con me Non con me In tutto l'Antico Testamento Colui che noi conosciamo Come nostro Salvatore Era il grande Io sono Egli camminava Nel giardino Dell'Eden Egli ha visitato Abramo Ha parlato Ai profeti Ma poi Il piano di redenzione Doveva Aver luogo E la parola Fu fatta carne E il figlio di Dio Nacque Non c'è Alcuna Testimonianza Che il figlio di Dio E' nato Dal padre Nel cielo Assolutamente No Abbiamo Tutte le promesse Nell'Antico Testamento In merito Alla nascita Del figlio di Dio In 2 Samuele Capitolo 7 Verso 14 Io sarò per lui un padre Ed egli mi sarà figliolo Salmo 2 Verso 7 Tu sei Mio figlio Oggi Ti ho Generato Isaia Capitolo 7 Verso 14 Una vergine Concepirà E partorirà Un figlio E lo chiamerà Emanuele Così si tratta Di promesse E di promesse E quando il tempo Fu compiuto L'angelo Gabriele E' disceso dal cielo E ha annunciato a Maria La nascita Del figlio di Dio E nel momento in cui Lei credette Quella promessa Lo Spirito Santo La adombrò E la parola Fu fatta carne E il figlio di Dio Nacque E il figlio di Dio E' morto per noi Sulla croce del Calvario Il Signore Doveva venire In un corpo di carne Perché noi abbiamo peccato Nel corpo di carne Noi siamo nati Nel peccato Nel peccato originale Dal giardino Dell'Eden Perciò noi leggiamo In Luca Capitolo 2 Verso 11 Oggi Cristo Il Signore E' nato Nella città Di Davide Egli era Il Signore Lungo tutto L'Antico Testamento Yahweh Dell'Antico Testamento E Yahshua Del Nuovo Testamento L'Alfa E' l'Omega Il Primo E' l'Ultimo Colui che era Che e che ha Da venire Così il tempo E' giunto Di lasciare Che tutte Le chiese Vadano Per le loro vie Ma il tempo E' anche Giunto Di credere Dio Di credere Secondo La scrittura Di ritornare All'insegnamento Di Cristo All'insegnamento Degli Apostoli E Dio Ha usato Il fratello Branham Come Egli Ha mai usato Un uomo Sulla faccia Della terra E' stato Un ministero Straordinario Egli era Il profeta Promesso Per il nostro Tempo Egli fu Detto Come Giovanni Battista E' stato Inviato Quale Precorsore Della prima Venuta Di Cristo Il messaggio Che ti è stato Affidato Precederà La seconda Venuta Di Cristo Quanti Credono La promessa Di Dio Quanti Sono Partecipi Di ciò Che Dio Fa Adesso Dio Vi Benedica Riccamente Voi Dovete Credere Come Dice La scrittura L'uomo Non vivrà Di solo Pane Ma Di ogni Parola Di Dio Così Dobbiamo Mettere Tutte Le cose Al posto Giusto Gesù Cristo Il nostro Signore Salvatore Ha Quattro Titoli Di figlio Figlio Di Abramo Figlio Di Davide Matteo Capitolo Uno Verso Uno Figlio Di Abramo Figlio Di Davide Figlio Di Dio Figlio Dell'uomo Come Figlio Di Dio Egli E Il Salvatore Come Figlio Dell'uomo Egli E Profeta Come Figlio Di Davide Egli E Re Come Figlio Di Abramo Egli E L'erede Di Tutte Le Cose E Noi Siamo Coeredi Con Lui Così Abbiamo I Quattro Vangeli Abbiamo I Quattro Vangeli E Nei Vangeli Il Nostro Signore Viene Descritto In Diverse Maniere C'è Una Certa Descrizione Nel Vangelo Di Matteo Matteo Va A Bet Battista E Se Leggete In Luca Abbiamo Annunciato Il Ministero Di Giovanni Battista E La Nascita Del Salvatore Il Nostro Signore Gesù Cristo Ma Giovanni Nel principio Era La Parola E La Parola Era Con Dio E La Parola Era Dio Così Comprendiamo Dalle Sacre Scritture Il Nostro Signore È Divenuto Tutto Per Noi E E E Il Mediatore E E L'Avvocato E E Il Primo Genito In Mezzo A Molti Fratelli E Attraverso Di Lui Noi Abbiamo Ricevuto Tutto Ciò Che Dio Ci Ha Dato Così Miei Cari Fratelli E Sorelle Se Voi Siete Stati Eletti Per Far Parte Della Sposa Di Cristo Dovete Ritornare Alla Bibbia Dovete Ritornare Al Fondamento Originale Dovete Ritornare All'insegnamento Originale E Alla Pratica Originale Della Chiesa Del Nuovo Testamento Dopo La Resurrezione Il Nostro Signore Ha Passato 40 Giorni Con I Suoi Discepoli Parlando Loro Del Regno Di Dio Alla Fine Di Questi 40 Giorni Egli Li Portò A Betania Alzo Le Sue Mani Benedì I Suoi Discepoli E Davanti Ai Loro Occhi Egli Fu Portato Nella Gloria E In Atti Capitolo Uno Dal Verso Nove Al Verso Undici Leggiamo Questo Gesù Che è Stato Portato In Cielo Di Mezza Voi Ritornerà Nella Medesima Maniera In Cui Lo Avete Visto Andare In Cielo Se Lo Credete Dite Amen Dio Vi Benedica In Atti Capitolo 3 Dal Verso 17 Al Verso 21 Ci viene parlato del Tempo Benedetto Che Dio manderà Prima Del Ritorno Di Cristo E Nel Verso 21 La Sacra Scrittura Dice Che Cristo Rimane Accolto Nei Cieli Fino 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 E Il Tempo Questo È Il Giorno Il Giorno Che Il Signore Ha Fatto Il Tempo Della Restaurazione Così Noi Crediamo In Un Solo Dio Ecco Perché Noi Preghiamo Padre Nostro Che Sei Nei Cieli Nessuno Prega Nostro Figlio Che Sei Nei Cieli Nessuno Prega Nostro Spirito Santo Che Sei Nei Cieli Indietro Al Fondamento Indietro Alla Bibbia Indietro Agli Insegnamenti Di Cristo E Degli Apostoli Noi Non Vogliamo Urtare Alcuno Ma Il Termine Dio Trino Non Esiste Nella Bibbia E La Parola Trinità Non Si Trova Nella Bibbia Tutti Questi Termini Che Insegnano Le Chiese Non Si Trovano Nella Bibbia Io Devo Dire Questo Devo Dirlo Devo Dirvi Ritornati A Dio Ritornate Al Fondamento Originale Che è Stato Posto Dagli Apostoli E Dai Profeti E Poi Comprenderete Matteo Capitolo 28 E In Modo Corretto Prendete Matteo Capitolo 28 Verso 19 E Andate In Atti Capitolo 2 Versi 37 E 38 In Atti Capitolo 8 Versi 16 E 17 In Atti Capitolo 10 Verso 48 8 E Poi Per favore Venite Con Me In Efeso Paolo Venne Ad Efeso E La Incontrò 12 Discepoli E La Sua Prima Domanda È Stata Come Siete Stati Battezzati Come Siete Stati Battezzati Se Dite Di Essere Un Discepolo Di Cristo Io Devo Chiedervi Come Siete Stati Battezzati E La Loro Risposta È Stata Siamo Stati Battezzati Del Battesimo Di Giovanni E Noi Leggiamo Atti Capitolo 19 Affinché Ognuno Sappia Che È La Parola Di Dio Atti Atti Capitolo 19 Verso 5 Udito Questo Furono Battezzati Nel Nome Del Signore Gesù Quanti 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 di Voi Siete Stati Battezzati Nel Nome Del Signore Gesù Cristo Alleluia Così Voi Siete Ritornati Al Modello Biblico Dunque La Parola Di Dio Ha Compiuto Ciò Per Cui È Stata Mandata Continuate A Credere Ogni Parola Di Dio E Non Prestati Orecchio Ad Alcuna Interpretazione Se Qualcuno Viene Da Voi E Vi Dice Che Ha La Rivelazione Dei Sette Tuoni Voi Aprite La Scrittura Apocalisse Capitolo Dieci Soltanto Quando Il Signore Discenderà Quale Angelo Del Patto Non Quale Sposo Per Portare La Sposa Alla Cena Delle Nozze Non Come Figlio Dell'Uomo Per Giudicare Le Nazioni Ma Quando Egli Verrà Quale Angelo Del Patto E Questo E In Malachia Capitolo 3 Verso 1 Alla Prima Venuta Di Cristo Soltanto La Prima Parte È Stata Ad Impiuta Io Mando Il Mio Messaggero Davanti La Mia Faccia Ma La Seconda Parte E L'Angelo Del Signore Entrerà Nel Suo Tempio Sarà Ad Impiuta Quando Il Tempo Verrà Ogni Cosa Al Tempo Giusto Soltanto Quando Il Signore Ritornerà Quale Angelo Del Patto E Metterà Un Piede Sul Mare E Un Piede Sulla Terra Ecco Quando I Sette Tuoni Faranno Dire Le Loro Voci Quanti Possono Dire Amen Questa È La Santa Parola Di Dio E La Voce È Venuta Dal Cielo Non Scrivere Ciò Che I Sette Tuoni Hanno Detto Dunque Ciò Non È Diventato Parte Della Parola Di Dio Ma Noi Dobbiamo Predicare La Parola Di Dio Seconda Epistola Timotio Capitolo 4 E Molti Altri Posti Predica La Parola Predica La Parola Perché I Cieli E La Terra Passeranno Ma La Parola Di Dio Dimora In Eterno E Se Questa Parola È In Voi Voi Dimorerete Con La Parola Di Dio Non Ricevete Alcuna Strana Dottrina Ogni Insegnamento Biblico Unisce Il Corpo Di Cristo Ogni Ministero Che Dio Ha Posto Nel Corpo Di Cristo Secondo Efesini Capitolo 4 E Per L'edificazione Della Chiesa E Per Il Ministero Ogni Falso Insegnamento Causa Divisioni Non Sostenete Mai Un Uomo Che Ha Dei Falsi Insegnamenti Non Voglio Entrare In Tutti Questi Differenti Insegnamenti Ma Anche Riguardo Alle Domande Come In Merito Alla Domanda Qui Che Adesso La Vita E Nel Messaggio E Non È Più Nel Sangue Sono Sincero Io Non Comprendo Una Simile Domanda Voi Dovete Prendere Il Cammino Della Bibbia Che Dio Vi Benedica Che Dio Dio Sia Con Voi Anche Se Un Angelo Venisse Dal Cielo E Predicasse Qualcosa Di Diverso Rimanete Con La Parola Di Dio Rimanete Nella Volontà Di Dio E Preparatevi Per la Seconda Venuta Di Cristo Ci Sono Differenti Insegnamenti Sui Tuoni E Ognuno Dessi Non È Scritturale Il Tempo È Giunto Di Non Fare Compromessi Di Non Fare Compromessi Con Il Messaggio Dell'Ora Credete Tutta La Parola Di Dio E Siate Ubbidienti Alla Parola Di Dio Certuni Credono Che Cristo Sia Già Ritornato Io Do Sempre La Stessa Risposta Quando Egli Verrà Noi Partiremo In Quel Giorno Due Saranno Nel Campo Uno Sarà Preso E L'altro Lasciato Due Saranno In Un Letto Uno Sarà Preso E L'altro Lasciato Ma Tutt'oggi Tutti Sono Ancora Qui Dunque Non Credete Alcun Insegnamento Ogni Vero Insegnamento È Collegato Alla Realtà L'ascensione In cielo Del Nostro Signore È È Stata Una Realtà Il Suo Ritorno Sarà Una Realtà La Sua Resurrezione È La Garanzia Per La Nostra Resurrezione La Sua Ascesa Al cielo È La Garanzia Per La Mia Ascesa Al cielo Rimanete Nella Parola Di Dio Rimanete Nella Volontà Di Dio Credete Con Tutto Il Vostro Cuore Che William Branham Era Il Servitore E Profeta Di Dio Promesso Nella Sacra Scrittura E Che Ha Avuto Il Più Grande Ministero Che Alcuno Abbia Mai Avuto Sulla Faccia Della Terra Questo È L'ultimo Messaggio Questa È L'ultima Chiamata Che Dio Vi Dia Orecchi Per Udire Che Dio Vi Dia Occhi Per Vedere Che Matteo Capitolo 13 Sia Adempiuto In Voi Beati I Vostri Occhi Perché Vedono Beati I Vostri Orecchi Perché Odono Beate Le Vostre Anime A Motivo Della Rivelazione Divina La Rivelazione Di Gesù Cristo Mai Prima L'intero Consiglio Di Dio È Stato Rivelato Come Nel Nostro Giorno Io Ho Conosciuto Il Fratello Branham Per Dieci Anni Sono Stato Nelle Sue Riunioni In Germania E Sono Stato Nelle Sue Riunioni Negli Stati Uniti Ho Mangiato Con Lui Alla Stessa Tavola E Ho Viaggiato Con Lui Nella Stessa Macchina E Quando Dio Ha Aperto I Miei Occhi Per Sapere Che Il Suo Ministero Era Nella Sacra Scrittura Ho Ho Saputo Che Dovevo Riceverlo Perché È Una Promessa Che Dio Ha Fatto Nella Sua Parola Così Così Comprendiamo Dalla Sacra Scrittura Che Secondo Matteo Capitolo 24 Verso 14 Il Vangelo Originale Del Regno Di Dio Incluso Tutto Ciò Che Appartiene Al Consiglio Di Dio Sarà Predicato A Tutte Le Nazioni E Questa Sarà L'ultima Chiamata Miei Cari Fratelli E Sorelle Non Mancate Il Giorno Della Visitazione Di Dio Ricevete La Parola Promessa Di Dio E Preparatevi Per Il Ritorno Di Gesù Cristo Secondo Matteo Capitolo 24 Dal Verso 45 Al Verso 47 Noi Dobbiamo Condividere Il Cibo Con Il Popolo Di Dio E Il Nostro Signore Ha Detto Il Mio Cibo È Di Fare La Volontà Di Dio Se Condividiamo Il Cibo Spirituale Con Voi E Per Riportarvi Nella Volontà Di Dio L'uomo Non Vivrà Di Pane Solamente Ma Di Ogni Parola Di Ogni Parola E Questo Noi Lo Crediamo Con Tutto Il Nostro Cuore In Matteo Capitolo 25 Leggiamo Ecco Lo Sposo Viene E Tutte Le Dieci Vergini Si Svegliarono E Tutte Uscirono Per Incontrare Lo Sposo Ma Poi Accadde Qualcosa Metà Di Loro Erano Pronte E L'altra Metà Non Erano Pronte Quando Ho Affidato La Mia Vita E Il Mio Ministero Al Signore Dopo Essere Ritornato Dal Funerale Del Fratello Branham Nel 1966 Ho Saputo Che Il Mio Tempo Era Giunto Di Andare Di Città In Città E Di Nazione In Nazione Per Condividere La Parola Di Dio E Il Cibo Spirituale Con I Figli Di Dio Il 2 Aprile 1962 Il Signore Non Ha Detto Soltanto Che Io Sare Dovuto Andare Di Di Città In Città Ma Egli Mi Ha Anche Detto Mio Servitore In Magazzina Il Cibo Perché Una Grande Carestia Sta Per Venire Allora Tu Starai In Mezzo Alle Persone Per Distribuire Il Cibo Il 3 Dicembre 1962 A Louisville Kentucky Stati Uniti D'America Il Profeta Di Dio William Branham Alla Presenza Di Due Testimoni Disse Fratello Frank Il Cibo Che Tu Devi Immagazzinare E La Parola Promessa Per Questo Giorno Ed Egli Disse Aspetta Con La Distribuzione Del Cibo Finché Riceverai Il Resto Del Cibo Così Quando Il Fratello Branham Ha Predicato Il Suo Ultimo Sermone Il 12 Dicembre 1965 Egli Fu Portato Nella Gloria Il 24 Dicembre 1965 Qualsiasi Cosa Farete Con Questo Lo Lascio A Voi Ma Il 24 Dicembre 1965 Io E Valde Frank Ho Visto Il Fratello Branham Salire Su Una Nuvola In Modo Meraviglioso Io Vivo In Germania Non Sapevo Che Egli Era Stato Portato Nella Gloria Ma L'ho Visto Salire Su Una Nuvola E In Questa Visione Io Ho Detto Fratello Branham Tu Non Sei Il Figlio Dell'Uomo Perché Ti Vedo Su Una Nuvola Dico La Verità Io Non Mento E Lo Dico Nel Nome Del Signore Noi Non Aggiungiamo Nulla Alla Parola Di Dio Non Mettiamo Le Nostre Proprie Interpretazioni Ma Io Ho Fatto Un Voto Davanti Al Signore Ho Detto Caro Signore Io Ti Servirò Tutti I Giorni Della Mia Vita Ma Per favore Sii con Me In tale Maniera Che Tutti Coloro Che Ascolteranno La Tua Parola Dalle Mie Labbra Che Loro Possano Credere In Te E Che Io Possa Rivederli Nella Gloria Io Credo Con Tutto Il Mio Cuore Che Il Ritorno Di Cristo È Imminente Nessuno Conosce Il Giorno Nè L'ora Ma Questa È L'ultima Chiamata Dio Ha Mandato Il Suo Messaggero E Il Messaggio Egli Ha Portato Il Messaggero Nella Gloria Ma Il Messaggio È Rimasto Con Noi Così Se Non Vi Rivedrò Sulla Terra Sono Certo Davanti A Dio Voi Siete Redenti I Vostri Peccati Sono Stati Perdonati Voi Credete Dio Voi Credete Le Promesse Voi Siete Figli Della Promessa Ricevete Lo Spirito Della Promessa E Siate Preparati Per Essere Pronti Per Il Ritorno Di Cristo Una Parola Finale Per i Fratelli Nel Ministero Quando il Signore Mi Ha Chiamato Le Ultime Due Cose Che Mi Ha Detto Sono State Queste Mio Servitore Non Stabilire Delle Chiese Locali Io Non Posso Essere Coinvolto Nelle Faccende Delle Chiese Locali I Servitori Di Dio Nella Vostra Città E Nel Vostro Paese Sono Responsabili Di Questo Pregate Per i Fratelli Che Sono Nel Ministero Non Parlate Male Contro Un Ministro Amatevi Gli Un Gli Altri E Che Si Adempia La Parola In Romani Capitolo 8 Coloro Che Sono Condotti Dallo Spirito Santo Sono Figli Di Dio Siate Condotti Dallo Spirito Santo In Giovanni Capitolo 16 Il Nostro Signore Ha Detto Ci Sono Molte Cose Che Vorrei Dirvi Ma Quando Lo Spirito Santo Verrà Lo Spirito Di Verità Vi Guiderà In Tutta La Verità Che Possa Diventare Una Realtà Nella Vostra Vita Che Dio Benedica Tutti I Fratelli Nel Ministero Che Dio Benedica Ciascuno Di Voi Quanti Desiderano Essere Pronti Per Il Ritorno Di Cristo Alziamoci In Piedi Alziamoci In Piedi E Preghiamo Insieme Quanti Hanno Una Speciale Richiesta Sul Loro Cuore Qualcosa Che Voi Volete Ricevere Da Dio Che Si Tratti Di Guarigione Di Salvezza O Di Rivelazione Qualunque Cosa Per Cui Pregate Credete Che Vi È Già Stato Concesso Seconda Epistola Ai Corinzi Capitolo Uno Versi 20 E 21 Tutte Le Promesse Di Dio Sono Sì Ed Amen Tramite Gesù Cristo Per Mezzo Nostro In Isaia Capitolo 53 C'era Una Promessa Egli È Stato Ferito A Motivo Delle Nostre Trasgressioni Noi Siamo Stati Riscattati Siamo Stati Guariti In Isaia Era Una Promessa Ma Quando Gesù Cristo Il Figlio Di Dio È Morto Sulla Croce Ogni Benedizione Di Dio Ci È Stata Data Ecco Perché L'Apostolo Paolo Scrive Agli Efesini Ed Oggi Egli Si Indirizza A Noi Voi Siete Benedetti Con Con Ogni Benedizione Di Dio In Cristo Gesù Ricevete Le Benedizioni Di Dio Ricevete La Rivelazione Divina E Siate Preparati Siate Preparati Perché Lo Sposo Viene Noi Aspettiamo Che Egli Venga Nel Nostro Tempo Maranata Maranata Vieni Signore Gesù E Voi Vedrete Il Ritorno Di Cristo E Voi Farete Parte Della Sposa Di Cristo Lo Credete Dite Amen Alleluia Alleluia Potete Sedervi